Io partecipo a questo campo perché volevo conoscere nuova gente, fare nuove amicizie e perché volevo sapere il lavoro della protezione difficile e come lavoravano insieme agli animali e come potevano salvaguardare le persone. Sostanzialmente in questo campo ci insegnano cosa poter fare in momenti difficili come per esempio qualche giorno fa siamo andati al lago di Berciano e ci hanno insegnato cosa fare se una persona stava annegando in presenza di un bagnino. Ci fanno imparare molte cose come per esempio che il cane e il padrone lavorano sempre insieme e non si lasciano mai e è una cosa molto importante non separarsi mai perché con il genocchio si crea un legame che non si può più spezzare. Io sto imparando a fare squadra, a stare in gruppo e come la protezione civile lavora e anche come l'unità cinofile cioè padrone e cane lavorano insieme per salvaguardare le persone. Ci hanno insegnato come si lavora tutti insieme perché infatti la protezione civile è un'orchestra dove tutti lavorano insieme e se qualcuno è più in difficoltà viene aiutato. E' stata una bellissima esperienza e pregherei a quasi tutti di diventare volontari, una sposa. A 14 anni ho partecipato a un campo intitolato anche io sono la protezione civile mi hanno insegnato come vivere e anche imparare a salvare gli altri e oggi dato che sono diventato un volontario sono qui a spiegarlo a tutti loro. I ragazzi stanno imparando moltissime cose soprattutto a fare squadra, capire che l'unione serve perché in emergenza possono in qualche modo tutti insieme essere d'aiuto senza nessun protagonista ma vince la squadra. Anch'io sono la protezione civile, è arrivata la tredicesima edizione. Dopo la pausa Covid abbiamo ripreso questa attività che vede coinvolte le regioni, le organizzazioni di volontariato e le componenti e strutture operative del servizio nazionale per far sì che i ragazzi possano fare un'esperienza nei campi che sono stati organizzati per loro. Vengono fatte attività sia di formazione didattica ma anche di gioco e di confronto con quelle che sono le attività che le nostre strutture operative svolgono quotidianamente per quella che è una materia trasversale come la protezione civile. Io sono la protezione civile, lanciate! Anche io sono la protezione civile! Anche io sono la protezione civile!